E' stata presentata questa mattina a Pordenone, negli spazi espositivi di via Bertossi, la mostra fotografica I Patrimoni UNESCO in Giappone. In occasione dei campionati mondiali di judokata, che si svolgeranno in città dal 20 al 23 settembre, l'assessorato alla cultura del comune di Pordenone è orgoglioso di proporre questo evento come occasione di incontro, scambio e conoscenza tra popoli e culture diverse, provenienti da tutti i continenti. La mostra vuole costituire un percorso culturale parallelo a quello che è un grande evento sportivo, inserito in un altro grande evento per la città che Pordenone legge e quindi questo darà la possibilità a un folto pubblico di poter visitare anche la mostra. Ma il terzo motivo, che forse è anche il più importante, è quello di rinsaldare i rapporti di amicizia con il Giappone. Noi ricordiamo che la città di Pordenone è gemellata con la città giapponese di Okawa e quindi questa è un'occasione ulteriore, come dicevo, per rinsaldare questo rapporto di amicizia e anche per approfondire quelli che sono gli aspetti di questa cultura che per noi è abbastanza distante, a volte misconosciuta, ma è di estremo fascino e di importanza. La mostra consiste in 60 pannelli fotografici scattati da Kazuyoshi Miyoshi, un importante fotografo giapponese che ha vinto numerosi premi e che ha voluto immortalare i siti dei patrimoni dell'umanità in Giappone. Sono 16 siti che comprendono aree templari, zone naturalistiche e che sono tra la storia più importante del Giappone. È un pezzetto di Giappone tradizionale che viene portato a Pordenone per far conoscere la cultura, la storia, l'arte di un paese che è così lontano da noi ma che per tanti versi ci è molto vicino. C'è anche un ricco programma di eventi collaterali che vanno dai laboratori di ceramica e di origami alle letture e presentazioni di libri al viaggio gastronomico nel Giappone e si svolgeranno lungo tutto l'arco della mostra. La mostra, a ingresso gratuito, può essere visitata fino al 30 settembre 2012.